Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino, terza parte di questo episodio di Non puoi non saperlo dedicato alla rivoluzione russa. Avevamo concluso il video precedente dicendo che a causa del fallito colpo di stato da parte dei bolshevichi, Lenin è costretto a fuggire a Helsinki in Finlandia, accusato dal governo di aver ricevuto denaro dall'imperatore tedesco per finanziare un colpo di stato bolshevico in Russia e conseguentemente ritirare le truppe russe dalla guerra. Il fallimento di questo tentativo rivoluzionario convince il governo provvisorio e le forze che lo sorreggono che oramai il momento rivoluzionario sia esaurito. Prima di cominciare vorrei ringraziarvi per aver scelto di guardare questo video, per la pazienza che avete con la pubblicità e ricordarvi che i testi dei miei video e gli altri miei libri sono disponibili su Amazon. Libri e pubblicità sono un modo per sostenere il canale, quindi grazie in anticipo per ogni vostro contributo. Trovate il link alla mia pagina Amazon nella descrizione di questo video. Il principe Livov, presidente del Consiglio, chiede al governo di essere più duro nei confronti dei contadini che occupano illegalmente le terre dei latifondisti e pretende le immediate dimissioni del ministro dell'agricoltura, il sociale rivoluzionario Chernov, accusandolo di incoraggiare anziché reprimere le occupazioni. Gli altri ministri appartenenti alla sinistra rifiutano di forzare Chernov alle dimissioni, comportamento che porta il governo allo scioglimento. L'incarico di primo ministro, con ampi poteri su varie giurisdizioni, viene così affidato al socialista Aleksandr Kerensky. Kerensky perde rapidamente la fiducia della massa proletaria, in quanto tenta di soffocare le azioni contadine e la propaganda bolscevica, reintroduce la pena di morte per cercare di riportare all'obbedienza l'esercito, ma soprattutto è deciso a proseguire la guerra contro i tedeschi a fianco delle potenze dell'intesa. Nonostante ciò, le forze più conservatrici vorrebbero azioni repressive e ancora più incisive, e sono pronte a sostenere l'ascesa al potere come dittatore militare del generale Kornilov, che lo stesso Kerensky aveva nominato comandante in capo dell'esercito su pressioni delle altre potenze dell'intesa. Il 12 agosto, per volontà del governo, si tiene un'assemblea denominata Consiglio di Stato, nella quale sono presenti i rappresentanti di tutti i partiti, tranne quello bolscevico, e un gran numero di proprietari terrieri, industriali, commercianti e banchieri, per un totale di 2000 partecipanti. Nel suo intervento, il generale Kornilov chiede apertamente poteri dittatoriali allo scopo di salvare la Russia dai bolscevichi, accusando il governo di non fornire mezzi sufficienti all'esercito e di essere incapace di riportare la calma nel paese. Nel frattempo, i bolscevichi, oramai dati perspacciati dalle forze reazionarie, tengono segretamente il loro sesto congresso a Pietrogrado e riescono a indire a Mosca uno sciopero che porta in piazza 400.000 persone. A questo punto, Kornilov tenta di rovesciare il governo. Il 19 agosto, infatti, ordina alle truppe in difesa della città di Riga di abbandonare la città nelle mani dell'esercito tedesco e di marciare in direzione di Pietrogrado. Kerensky, resosi conto delle intenzioni del generale, lo destituisce, ma Kornilov non accetta l'ordine e invia un corpo di cavalleria cosacca in direzione di Pietrogrado. Ricordiamo che i cosacchi sono un'antica comunità militare che vive in maggioranza nella steppa situata tra Ucraina e Russia. Il governo provvisorio non ha a sua disposizione truppe con le quali poter respingere l'assalto e così sono i bolshevichi a organizzare la difesa creando il consiglio di guerra per la difesa di Pietrogrado. In breve tempo 25.000 operai entrano a far parte della cosiddetta Guardia Rossa, una forza militare organizzata a difesa di Pietrogrado, voluta da Liev Trotsky, ex menshevico, poi bolshevico dal luglio del 1917, presidente del soviet di Pietrogrado e commissario del popolo per gli affari esteri. Inoltre i lavoratori delle aziende produttrici di armi prolungano volontariamente l'orario a 16 ore e in due giorni costruiscono 200 cannoni. Le unità dell'esercito coinvolte nelle giornate di luglio, che erano state disarmate, tornano poi a essere operative e a loro si uniscono alcune migliaia di marinai provenienti dalla base navale di Kronstadt. Tutta la rete ferroviaria viene poi sabotata dagli stessi ferrovieri che la rendono inutilizzabile. Emissari del consiglio di guerra prendono immediatamente contatto con alcune delle unità che stanno marciando su Pietrogrado e riescono a farle passare dalla loro parte, ponendo di fatto fine al tentativo contro-rivoluzionario. Kornilov e altri ufficiali vengono arrestati e poi rilasciati, per evitare un processo che avrebbe fatto venire alla luce i collegamenti di questi con il governo provvisorio. Kerensky riesce a rimanere al governo, ma oramai non ha più alcuna credibilità verso le classi popolari, che sostengono con sempre maggior convinzione il partito bolshevico. Per cercare di evitare la presa di potere da parte dei bolshevichi, il governo stabilisce che il 28 novembre si sarebbero tenute le elezioni per un'assemblea costituente. Fra la metà di settembre e la metà di ottobre del 1917, Lenin riesce a convincere anche le parti più scettiche del proprio partito della necessità di attuare il colpo di stato prima delle elezioni per la costituente, o ancora meglio, prima dell'inizio del secondo congresso dei Soviet, che avrebbe così potuto legittimare il nuovo ordine. L'insurrezione inizia il 6 novembre e ricordiamo che passerà alla storia come rivoluzione d'ottobre, in quanto il 6 novembre del nostro calendario gregoriano corrisponde al 24 ottobre del calendario giuliano, che come già accennato è in uso nell'impero russo in quegli anni. Prima di sera vengono occupate tutte le tipografie e la notte del giorno successivo vengono presi i punti nevralgici di Pietrogrado, quali poste, telegrafi, stazioni ferroviarie, banche e ministeri. Il governo provvisorio cessa di esistere senza alcuna resistenza. Kerensky fugge verso il fronte a bordo di un'auto dell'ambasciata americana per cercare rinforzi, mentre gli altri ministri si rinchiudono nel palazzo d'inverno, che sarà espugnato poche ore dopo e i ministri arrestati. La sera del 7 novembre, il 25 ottobre del calendario giuliano, Lenin annuncia il successo della rivoluzione al secondo congresso dei Soviet e in questa sede viene conferito agli stessi Soviet l'incarico di governare la nazione. Dopo sanguinosi scontri, anche Mosca cade nelle mani dei rivoluzionari il 15 novembre, il 2 novembre del calendario giuliano. I primi atti formali del governo dei Soviet sono il decreto sulla terra, che prevede l'immediata distribuzione senza indennizzo delle terre dei latifondisti ai contadini privi di terra, il decreto che prevede l'apertura immediata di trattative di pace con tutte le nazioni belligeranti e un immediato armistizio di almeno tre mesi, la sostituzione del vecchio sistema giudiziario con i tribunali del popolo elettivi, la sostituzione della polizia con una milizia composta prevalentemente da operai, viene sancita la totale separazione tra stato e chiesa, viene introdotto il divorzio e il matrimonio civile con uguali diritti per entrambi i coniugi, viene sancita la totale parità di diritti tra uomo e donna, viene introdotta la giornata lavorativa di otto ore, nell'esercito vengono cancellate le differenze di trattamento fra soldati e ufficiali, vengono nazionalizzate tutte le banche private, il commercio estero diventa monopolio dello Stato, la flotta mercantile e le ferrovie diventano statali, le fabbriche vengono date in gestione agli operai, viene sospeso il rimborso dei prestiti ottenuti all'estero dal regime zarista e infine tutti gli accordi internazionali inclusi quelli segreti vengono resi pubblici. In particolare, come già visto nell'episodio di Non puoi non saperlo dedicato alla prima guerra mondiale, fa molto scalpore a livello internazionale la pubblica del Patto di Londra, l'accordo segreto del 26 aprile del 1915 tra il governo italiano e i rappresentanti della triplice intesa, con il quale l'Italia si sarebbe impegnata a scendere in guerra contro gli imperi centrali entro un mese dalla stipula del trattato, in cambio di cospicui compensi territoriali. Il metodo della diplomazia segreta era infatti fortemente osteggiato dal presidente americano Wilson, che infatti, terminata la guerra, si oppone risolutamente alla completa realizzazione delle rivendicazioni territoriali italiane basate sul Patto di Londra. Bene, anche per questo video è tutto, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi e come sempre un sincero grazie per l'attenzione. Ciao a tutti e alla prossima! Grazie a tutti!